Iniziano a ferro con Rimmel alle 8 e 34 minuti, ma ve lo avevo detto, adesso siamo arrivati a una nuova rubrica qui a Good Morning Milano perché c'è una Milano che conta e una donna che conta con lei. E la bionda che conta qui per noi, continua a ridere, ma perché ridi? La tua sigla, Viola, la nostra producer. Ciao a tutti, buongiorno. Grazie Fabio per questa sigla che è davvero favolosa. Perché è la Milano che conta, cioè cosa contiamo? Contiamo cose, giusto? Sì, esatto. Ogni settimana conto qualcosa. Allora, siccome settimana scorsa avevi già parlato della rimessa nuova della vedovella madre, quella in piazza della Scala che verrà restaurata, tra l'altro l'articolo dice che sono iniziati i lavori a febbraio, il 12 febbraio, quindi mi sono chiesto a quante vedovelle effettivamente ci fossero a Milano. Ok, quindi quante fontanelle ci sono a Milano? Allora, 580 in totale. 580 vedovelle? Tante, tante. Tra l'altro tutte di acqua potabile, ovviamente. Ah, giustamente sì. Tu hai una tranne una e devi scoprire quale è quella che non è potabile. Le ho provate tutte, anche quelle. Anche queste le ho provate tutte, ovviamente. No, no. 580 vedovelle, no? Allora, vedovelle ovviamente perché? Perché ricorda il nome, ricorda il pianto di una vedova dal getto d'acqua, ma vengono chiamate anche draghi verdi. E ho scoperto perché. Perché il simbolo dei visconti, dello sistema dei visconti, ha una specie di biscia. Ok, sì, il biscione. Esatto, esatto. E poi dopo dal bischio ne ha dato il drago, però comunque partiva da quella roba lì. Esatto. E ovviamente quella della scala è la più vecchia, la più antica, nonché la prima. E una curiosità importante, secondo me, che è l'unica di bronzo, perché tutte le altre sono in ottone. Questa è l'unica di bronzo. Però ho cento anni, quant'è che hai resistito? Sì, vabbè, stanno restaurando. Però sì, 580 però sono tante. Sono tante, sì. Non pensavo così tante. Sì, sì, sono un bel po', le hai portate tutte, dove si beve l'acqua più buona. Ma quella della scala è buona. Quella della scala c'è il suo perché. Sarà l'ottone, no? Eh, sarà un po'... Sì, è vero. Sarà quello, sarà quello. Poi ci sono anche quelle a City Life che sono un po' diverse, abbiamo visto invece, che hanno le bocche diverse. È vero, l'unica, l'unica, l'unica sì che era diversa quella in City Life, che tra l'altro anche quella recentemente è uscito l'articolo. L'articolo anche su quello. Quindi in totale abbiamo, mi hanno detto, 580. 580 vedovelle. Insomma, questa è la Milano che conta tutte le settimane. Cercheremo di darvi dei dati così, partendo da un po' di numeri. Sì, sì, sì. Cosa ci possiamo aspettare? Allora, la settimana prossima volevo provare a contare o la lunghezza dei binari del tram. A piedi vai. A piedi, sì. In una settimana forse ce la faccio. Se comincio oggi ce la fai, sì. Sì, oppure le stazioni della metro. Quante fermate ci sono. Quante stazioni della metro ci sono? Esatto. Secondo voi, 331-78-53555. Vediamo se lo indovinate. Ve lo diciamo stiamo alla prossima. Sì, esatto. Va bene. Va bene, Viola. Grazie allora. Prego, grazie. Grazie a te. Grazie a Viola e ai suoi conti. Facciamo tornare di questi conti. Dobbiamo fare in modo che i conti tornino. Andiamo avanti con la musica perché adesso invece è il momento di San Giovanni con Finiscimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.